Siamo contenti di poter proseguire insieme a Sidigas, a Ravellino, io con Nicola e provare se si riesce a fare qualcosa di più lungo, che non sia solamente quest'anno una vampata, un momento felice, ma che si possa fare qualcosa di duraturo, di continuativo, poi si vince, si perde, insomma, il basket, chiaramente essendo uno sport fatto di episodi, una volta ci rende più contenti, una volta meno contenti, però cercare di fare insieme alla proprietà, insieme alla Sidigas, un qualche cosa di più lungo, qualcosa di più strutturato, per avere delle basi forti anche per la prossima stagione. Quindi io sono contento della volontà della Sidigas di volerci qua in maniera così forte, sono contento che con Nicola ho un rapporto molto professionale, oltre che amichevole, in cui ci troviamo su tutto quello che pensiamo e che programmiamo con un confronto sempre molto leale, e poi sono anche contento di essere entrato piano piano nella città, con la gente, con i tifosi, con una squadra fatta di ragazzi, di giocatori che sono persone serie e vere, sono contento di continuare a collaborare con la struttura, con Dido, con Gaetano, con Maria, con Luigi, con Goffredo, con Luigi Custode del Bar, con tutti quelli che stanno vicino a noi per far sì che questa struttura abbia sempre più forza e questa struttura riesca ad essere tra le prime in Italia, però almeno tra quelle meglio organizzate e quelle che non lasciano nulla al caso di poter fare le cose per bene. Se io parlo da un punto di vista prettamente cestistico di mio guadagno personale della squadra, forse a me personalmente rimandare andava quasi addirittura bene, perché con Pini non ha il meglio delle condizioni, con Hacker, che stiamo facendo un recupero piano piano, con Marcus Green, che è da poco rientrato. Quindi noi non è che a livello prettamente mio di allenatore ne approfitto per qualche cosa, un discorso societario in cui io onestamente non ne sono entrato dentro. Quindi poi per il resto, al di là di questa cosa, credo che sia un discorso tra le due società, insomma non penso che noi, è vero che quando vinci sia un po' più antipatico, però credo che sul campo, sulla sportività, sulla correttezza dei nostri tifosi, io dico anche, e ripeto, non mi appartiene, non ne sono entrato in merito a questa considerazione della partita di sabato, però credo anche che noi ci siamo sempre messi a disposizione della Lega in qualsiasi modo, tutte le volte che ci hanno fatto giocare a mezzogiorno, tutte le volte che ci hanno chiesto di fare il lunedì, di fare il sabato, cioè da parte di Avellino c'è stata la massima disponibilità da parte della Scandone di seguire tutto ciò che ci veniva chiesto, di accontentare qualsiasi richiesta, e io come allenatore non ho mai interferito minimamente sotto questo aspetto. I nostri tifosi mi sembrano tra i più corretti d'Italia, perché non c'è mai un coro contro, non c'è mai una mancanza di educazione da parte di nessuno, e quindi in Coppa Italia hanno fatto, mi permetto di dire, abbiamo dato dimostrazione di essere veramente una bellissima realtà sotto un punto di vista sportivo, perché poi dopo possiamo parlare anche, io ne sono anche un po' affascinato, il pensiero ultrano, il pensiero ultrano, però la verità è che è bello vedere anche da Avellino che possono venire tranquillamente le famiglie, i bambini, c'è questa tradizione, c'è questa passione pazzesca, quindi mi sembra che veramente abbiamo provato e dato dimostrazione di riuscire a essere, non dico i più simpatici, però perlomeno i più corretti di tutti, questa cosa di Varese, non voglio lavarmi le mani perché se no sembra che ne voglio schivare la domanda, però oggettivamente devo dire la verità, non è una cosa che è passata attraverso me, quindi anzi io se avessi dovuto fare il furbo forzavo in una maniera opposta, io ho lasciato decidere la società come è giusto che sia perché non è il mio ruolo. Io credo che ho una richiesta, oggi farò una riunione con la squadra, chiaramente nella preparazione della partita, e vorrei chiedere una particolare attenzione a degli aspetti tecnici tattici alla squadra. La squadra è sempre molto attenta, diciamo che il planning game o piano partita sono quasi sempre bravi nel seguirlo, ecco, con questa partita credo che abbia una valenza particolare il fare due o tre cose tecniche tattiche importanti, perché Varese è una squadra che ha degli esterni veramente dei grandi ratori, se entriamo in rotazione difensiva ci fanno male, quindi dovremmo studiare un paio di accorgimenti tecnici per non entrare in rotazione difensiva, dovremmo essere bravi nel saper cosa fare quando fanno giocare Kangoo nel 5, dovremmo essere bravi a capire, a saper cosa fare con Davis quando si apre al posto di rollare a canestro. è una squadra che ha qualche particolarità tecnica tattica, soprattutto offensiva, e quindi dovremmo cercare di modificare leggermente le nostre regole difensive con grande attenzione. Noi in verità abbiamo fatto un allenamento solo fino adesso, perché la giornata di martedì che mi vedeva impegnato con la Nazionale Under 20, in verità l'abbiamo usata per tamponare un po' le difficoltà fisiche che avevamo, quindi c'è stato un grande lavoro di Silvio Barnabaco, il dottore, il massaggiatore, abbiamo lavorato sulla pesistica, quindi il vero allenamento l'abbiamo fatto solamente ieri. e abbiamo questa partita dove, ripeto, Varese ha dei tiratori micidiali tra Cuxix, Kangur, Cavaliero, l'ultima partita è stato veramente il bombarolo notevole, Varanauskas è ritornato, quindi hanno un cambio di premiecker efficace, con Chris Wright, che invece è un giocatore un po' diverso, che cerca di aprire un po' con la penetrazione. Waynes è la prima punta dove gioca sempre, e soprattutto hanno questa tipicità nei lunghi, con tutti che si possono aprire, e oltre a giocare spalla a canestro, possono giocare a fronte a canestro, dotati quindi di un buon tiro. La cosa, voglio dire che sia più facile, più difficile, voglio dire che ci vuole qualche accorgimento sulle nostre solite regole, quindi un'applicazione mentale della squadra abbastanza forte, che mi piacerebbe che oggi si tramutasse poi in allenamento, nelle cose vere, anche nel provarle, nel vedere se quello che abbiamo pensato poi possa essere particolarmente funzionale. Chiaramente la partita di Varese all'andata per noi fu una partita importante, perché venivamo da un momento difficile senza i due premiecker, a Bologna probabilmente abbiamo giocato la nostra peggior partita, a mio avviso non tanto per l'approccio, proprio per la mancanza di un regista, a Varese fu fatta una partita invece di grande redizione, di grande equilibrio, e anche di una buona padronanza del campo. Oggi è chiaro che loro hanno bisogno di punti se vogliono provare l'accesso ai play-off, noi ai play-off insomma un bel passone dentro, l'abbiamo già fatto, e dobbiamo mettere solamente dentro il secondo piede, è chiaro che da qui alla fine sono tutte partite in cui vediamo se possiamo avanzare di uno step. Quindi sono punti importanti, come lo sono tutte le partite. C'è sempre qualche mio amico che mi dice tutti per le partite e gli altri sono sempre forti, è un rispetto per gli altri. Per Varese non dico che sono forti, quindi oddio che preoccupazione, dico che hanno delle cose tattiche, particolari, che se tu non ci stai attento, che se noi non troviamo, non siamo preparati sin dall'inizio nel dover fare alcune cose sotto un punto di vista difensivo, dopo possiamo avere qualche difficoltà. Grazie. Grazie.